La restituzione dei 15 punti in classifica ha sicuramente galvanizzato la Juventus che si presenta alla sfida contro il Napoli con un'arma in più, calcolando anche il non brillantissimo periodo degli azzurri, reduci anche dall'eliminazione in Champions League. All'andata al Maradona la gara si concluse con un sonoro 5-1 in favore degli uomini di Spalletti. Il tecnico azzurro dovrà rivedere la formazione anti-Juve a causa degli importanti infortuni di Mario Rui, Politano e Rachmani. Ci sarà Osimène, rientrano Kim e Anguissa e Spalletti potrebbe sistemare il coreano al fianco di Juan Jesus e poi schierando il camerunense al fianco di Lobotka per Ndombele o magari per Zelisky che a quel punto lascerebbe il posto al francese. La corsia di sinistra andrà ad Olivera automaticamente e quella di destra che invece Lozano ed Elmas si contenderanno. Intanto si fanno i conteggi sulla possibile data dei festeggiamenti dello Scudetto. La squadra proverà a mantenere il vantaggio di 14 punti accumulato fin qui sulla Lazio e 16 sulla Juventus. Se la squadra azzurra e quella di Maurizio Sarri dovessero vincere tutte le partite fino a quel weekend, l'attenzione si sposterà su Milan-Lazio del 6 maggio prossimo. Se i biancocelessi non dovessero vincere in casa dei rossoneri infatti, il Napoli potrebbe già festeggiare di sabato prima ancora di scendere in campo contro la Fiorentina d'Italiano. Il Napoli nelle prossime sfide incontrerà la Juventus a Torino domenica sera, poi riceverà in casa la Salernitana e sarà impegnato nel turno infrasettimanale a Udine contro i bianconeri. Per la Lazio sfida il Torino, poi la trasferta in casa dell'Inter, quindi la partita contro il Sassuolo in casa prima di tornare a San Siro per affrontare il Milan. Il Napoli potrebbe vincere lo Scudetto con cinque giornate di anticipo.